E bella a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video Tranquilli ragazzi, so cosa state per pensare, ma non mi preoccupate, questo non è un fuoco, la mia casa non sta andando a fuoco Ma è un new entry nel mio studio, che è tipo un vaporizzatore per aromi, insomma, una roba molto buona E questo è semplicemente un effetto del vapore con la striscia led, quindi tranquilli, non va a fuoco niente Ma ora passiamo a noi ragazzi, oggi sono qui per provarvi un bellissimo game Che peraltro ho fatto mentre ero in live sul mio canale viola, anzi per questo vi aspetto tutti i giorni dalle 17 Anche solamente per un saluto, quindi passate a salutare la vostra Croatomist E ho fatto un game in solo nella modalità no build veramente fuori Ma ragazzi, fuori, fuori, fuori di testa 21 kill nel chilling, è un endgame ragazzi veramente pauroso perché ho avuto veramente paura che l'ultimo player fosse in fishing E poi abbiamo fatto anche ovviamente uno start assurdo, tipo con 12-13 kill, insomma un video pazzesco E solo per questo ragazzi vi invito da subito a lasciare un bel pollice in su Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina E vi ricordo che sotto in descrizione trovate tutti i miei profili social Quindi ragazzi ora non perdiamoci in chiacchiere e passiamo al gameplay Buona visione Buona Uè marshmallow, sta a posto? Sono cagato addosso Bella pesciolina, vieni che ti brucia il culo, bella pesciolina No, Luca Che è Bunkers Immagina avere un pompa, un SMG e morire contro una papera Punto numero uno, che sei morta contro una cazzo di papera Punto numero due, il pompa e l'SMG E' di dietro ragazzi Ci ritroviamo? Ci rivediamo eh? Anche di santa di minuti Ci rivediamo, s*****, hai capito? Però qua ho proprio smerdato il cesso, ti giuro C'è nessuno ragazzi? In questa situazione La paperella ragazzi è sempre nemmi di fuga, ricordate Oh, oh, altra gente Mi sono cagato addosso, Cristo del Dio Fra, ma tutto a posto? Ma che stai facendo qua sotto? E' un player quello Dai, big daddy Sì, un tempo i venti bombe erano allo start Ma guarda qua, ho fatto 13 kill tutto a pinnacoli e siamo 19 Cioè, anzi che sono toppe kill per essere uno start così Non mi succede quasi mai È raro che ci sia uno start così Ormai ci vuole un miracolo per avere uno start così Ecco un player, è lì dentro L'ho visto ragazzi, è qua dentro Tutto ok, zio? Cioè, non ho capito sinceramente perché era così fermo Me la rischio, non mi interessa Cioè, non mi interessa Cioè, non mi interessa Ah, vedi, ah, il drop e si è morto Godo come un cazzo di riccio per una tabogare che fa Quella Ecco l'ecco l'ecco, cazzo Questa è la mia diciottesima kill Fermi Taglia due, ok Ok, ottimo Mi sembra quella impulsora Questa era una kill purtroppo Mi hanno stirato la kill purtroppo Questa è cosa di reazione Quindi in realtà è god Perché posso andare tranquillamente qui Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Vabbè veramente, zio Che buco di culo, veramente Regà, la safe finisce sotto Regà, la safe finisce sotto Cioè, o entra a fare la 20 kill E la vince il pronostico ragazzi Let's fucking go baby Let's fucking go baby Vi dirò di più Qua finisce in fishing ragazzi Qua finisce in fishing Stava notando Non mi direi che sale No, va avanti La safe Grazie a tutti E va vincendo ragazzi 21 bomb lo butta in safe Gli fa prendere 20 turni di danno con impulso E fa la place E la vostra Martina si porta a casa il game Con 21 kill E vi fa vincere due pronostici consecutivi G di un G signori G di un G Bene ragazzi siamo giunti a termine di questo video Come avete visto abbiamo fatto una partita strabiliante Con 21 kill Veramente pazzesco ragazzi Uno start fuori di testa Un endgame super Con l'ansia addosso Ma siamo riusciti in tranquillità A portarci la partita a casa Con una bella impulso sull'ultimo player E una bella smitragliata Popo sulle gengive Quindi ragazzi Direi che per questo video è tutto Se non avete ancora lasciato un mi piace Mi raccomando lasciatelo adesso Che è il momento giusto per farlo Dalla vostra gran amministrazione è tutto Noi ci becchiamo in un prossimo video Bella a tutti ragazzi Noi ci becchiamo in un prossimo video 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 Noi ci becchiamo in un prossimo video